Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Material Energy Lo so che è passato un casino di tempo, ma Xander e io abbiamo avuto un paio di problemi a registrare Prima di tutto il Romics, poi... cioè prima preparazione del Romics, poi il Romics e adesso vari problemi eventuali E quindi eccomi qua a registrare una bella puntata da solo nella Material Energy Ma non preoccupatevi che poi Xander torna, come stiamo facendo un po' ovunque Perché tipo, anche lui sta registrando un po' di Grand Skies da solo Però non ci usava nulla ragazzi, dobbiamo per forza andare avanti Dobbiamo fare tanti danni, dobbiamo uccidere tutti perché noi siamo bravi Voglio quello figo di Arco, sì, direi proprio di sì Ok, allora se sapete vi ho recuperato un bel po' di roba e abbiamo delle quest da completare Infatti, come sapete, tipo abbiamo un casino di quest adesso, guardate qua Bam, Damascus Per fare tutta roba c'è un casino, un casino di materiali Ma prima di tutto dobbiamo scendere giù Quindi andiamo sopra qui nel nostro coso e andiamo verso lo Spatial Incubator No, Spatial U Ok, Spatial U Andiamo a levare il nostro Biosphere da dentro Perfetto Aspettate, devo fare così, devo fare Ok, dovrebbe essersi levato Perfetto E ci mettiamo il nostro Miner Delight Vai Bam, andiamo a cercare cosa qui dentro Magari così siamo sicuri Perfetto E andiamo verso, dov'era, dov'era di qua Ok, l'osservatorio Dovremmo avere il Miner Delight Tipo, oh, guardate qua Il nostro Miner Delight Oh, quanti bei materiali ci sono qui dentro Quanti bei nemici anche Abbiamo tutto necessario per poter fare tanta roba Ok Ma prima di tutto voglio vedere un attimo che cosa ci chiede di fare Allora, c'è una missione del Miner Delight? Bella domanda Non ne ho la minima idea Presumo di no Ora, ok, c'è anche un secret È vero che non siamo ancora riusciti a fare Devo farmi il Tool Forge Perché mi dà il Lummer Che è interessante E anche ha varie cosette eventuali Quindi si può fa, si può fa Tool Forge Mi sembrava un fuori di ferro Allora Aspettate che lo prendiamo Ok Prendiamo un poco Se no arriva gente e ci ammazza Stupido Zombie di merda Ok, noi abbiamo sempre la nostra spada Potentissima e potentissima Mi stanno uccidendo Mi stanno uccidendo Smettetela Ok Aspettate che mi stanno picchiando Devo uccidere quello scheletro Che è una delle cose più brutte che ci sia in questo modpack Ok E non vedo l'ora di poter volare con le mie super alette Super cosette Insomma Ok Prendiamo un po' di ferro Oddio Ok Altro ferro Aspettate che prendiamo anche la pislazzola La pislazzola Magari non li prendiamo Che così non perdiamo roba Aia E ne fa tempo Expiriamo anche E recuperiamo anche degli oggetti In effetti Ok Penso siano sufficienti Manco per il cavolo Sinceramente Anche perché comunque Mi serviranno tipo un casino Le testi di zombie sarebbero utili Per un paio di cose Della Enderio Quindi perché no Prendiamole Ok Non farò tagli in questo video Perché gestamente Non li faccio Cioè Ora parliamo Piccoli tagli li farò Però non faccio dei tagli Se non è una serie multiplayer Poi vi spiegherò anche il perché Ok eccoci qua Allora stavamo dicendo Non farò dettagli Però a cui li ho fatti Tipo adesso Vabbè fa nulla Quello Quello fa nulla Allora 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 Che figo Ed è bello Ok E dovrebbe essere utile Per potermi fare Un bel po' di iron Quindi faccio un po' di iron Faccio un po' di ferro E ci vediamo appena Ne ho abbastanza Nel tempo buttiamo anche Questa roba qui dentro Non ci serve Ok Abbiamo tutto necessario Andiamo qui Facciamoci quattro lingotti O quattro blocchi di ferro Perfetto In questo modo Ottimo E mi serviranno Anche altre cosette Mentre tutto Quale era il tavolo Era il tool station Ok Opla Dobbiamo fare il tool forge Perfetto Perché è importantissimo Fare il tool forge Così possiamo craftare Nuovi oggetti Allora Forge 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 Ok Mi servono Dei Dei oggetti Che non ho sicuramente È vero che io non ho messo Il coso Auto search Ok No Non ce l'ho questi Shared brick E non penso di averli No Quindi devo craftarli Ok Si craftano in questo modo Comunque Dimmi che ho della Clay Bella domanda Non ho della clay Come faccio a farmi La clay Slug Come sono le slug Si fanno Con della sand E della powder A caso E noi dovremmo avere Quel macchinario Mi sa No E no Mi servono della clay Ragazzi Vediamo se si può craftare Ok Forse ho trovato il modo Di fare la Bellissima clay Devo farmi un barrel Perfetto Eccolo qua In questo modo Ah Giustamente si Non ho del wood Mi sa Aspettate un secondo Allora Facciamo così Acacia wood Ottimo In questo modo E così Ok Eccolo qua Abbiamo il nostro barrel Va benissimo Ci serve un bucket E lo craftiamo subito Comunque abbiamo un po' di ferro Per poterlo fare E ci serviranno Vabbè A volte i blocchi Possiamo mettere Dentro del water 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 Che non abbiamo Dove diamo Possiamo prendere L'acqua Abbiamo vari posti Iniziamo a prendere L'acqua Qui penso ci sia Qualche pezzatino D'acqua Ma anche per il cavolo Ok Dobbiamo forza andare Dall'altra parte Quindi scendiamo Un attimo giù E andiamo a prenderci Una pozza E finita l'acqua Allora riprendiamo Un attimo Un po' Di globo E facciamoci Che ne so Due secchi d'acqua Ok Facciamo l'acqua Infinita tranquillamente Perfetto Ok Andiamo di qua 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 Perfettissimo Ok Andiamo bene Ah L'ho messo dentro Si l'ho messo giù Mi sa Ok Passa l'iu Da qua Prendiamo il nostro Piccolo amico Facciamo Così Così rientra Perfetto E questa roba Ci mettiamo dentro Adesso Perfetto Da questa parte Ok Andiamo Servatorio Perfetto Servatorio Ok Qui dentro c'era Dell'acqua Lo ricordate Io Si me la ricordo Andiamo a prenderci Questa bellissima Acqua Tranquillamente Ci saranno Nemici qua Sicuramente Lo sapevo io Ok E acqua Acqua fu Una E due Devo anche Ricoprire le patate Quindi magari Possiamo anche lasciare Questa roba Ok Penso che non ci Torneremo tanto Molto spesso Nelle miner dream O miner the light Ok Miner the light Quindi per il momento Siamo anche felici Di avere Un Un qualcosa Che mi dia Acqua infinita Dove va l'acqua infinita Bella domanda Ma vediamo Tanto abbiamo un po' di spazio Sinceramente Allora Non so se qui sotto C'è qualcosa Oppure no Oddio Non penso sia un'ottima idea In effetti C'è qualcosa Qui sotto Comunque Ok E prendiamoci magari Dei blocchi Sapete Dalla nostra Nei E C'è la nei Dalla nostra Cosa qua Magari non questa Ma questi Questi redstone Ok Vi so che Sandro Si è fatto una mezza A casa Ma fa cagare E Acqua infinita Fu Ta 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 Ora tipo mi dice No non puoi fare Acqua infinita Sarebbe un troll totale Perfetto Mi servirà della Sand E un Hammer Hammer che posso fare subito subito Facciamolo in cobblestone Perché tipo un po' di cobblestone Dovremmo averla Ok In questo modo Perfetto Hammer Nice E mi servirà della Sand 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 Ed eccola qua Un paio di Sand Tipo 6 Ottimo Questa messa in questo modo Ci darà la Dust Ci darà Vedete Bam Figo La Dust messa dentro Il nostro barrel Ci darà la benedettissima Clay Clay fu Ta 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 Mi ricorda tanto Superman Sta cosa Ok E facciamone tipo Boh facciamone Fin quando riusciamo Dovrebbe andar bene così In teoria Ok va benissimo In questo modo Abbiamo 5 pezzi di Clay Possiamo detentare Romperla O metterla qui in inventario E adesso Possiamo farci un po' di roba Ci serve la gravel Ci serve Giustamente ci serve la gravel Non compressata Ottimo E Shared Brick Ragazzi Ta 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 Giustano fare il Groot Prima Ok Oddio Mi servono un po' di Un po' di Clay Perfetto Mi servono un bel po' di questi cosi Per iniziare anche la Tinker Bella E Corposa Mettiamo qua C'è i nostri piccoli Amichetti qui Ci vediamo appena Cotto Tutto quanto Ed eccoci qua Con i nostri tre cosi Finalmente Perfetto C'è stato un libro Che noi non useremo Perché Ormai la conosciamo la memoria E Iron Ta 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 Fate il tour forte ragazzi Ora possiamo Completare una missione Oh Questa roba ci serviva Veramente Perfetto Abbiamo un mezzo hammer Non male Non è chissà quale Gran cosa Però può bastare Cactus Cactus Non ne abbiamo Magari il bone Sarebbe meglio quello lì Però Guardate qua Possiamo creare di tutto Adesso tranquillamente E felicemente Ora Se non sbaglio Dovrei avere Un Qualcosa Qui tipo Per iniziare Sto roba Ma poco importa Sinceramente Lasciamo stare Prendiamo un attimo Il ferro Ok Quindi abbiamo Queste robe Che adesso Lasciamo qui dentro Che non ci interessano E abbiamo completato Un'altra quest Che era poi Questa qua Il forgio Ora Possiamo passare A farci Questo qua Un esalt seed Che tipo Non so bene A cosa servono Perché Una modo nuova Che io non conosco E tipo Come si fanno Bella domanda Si fanno Ah Seed Block of redstone Awaken potion Eh Ok Mi sono dei blades Mi servono Dovrei averli Manco per il cavolo Forse ce l'ho però Il potion Awaken No Non ce l'ho nemmeno Quella roba Ce l'ha elton Sicuramente La elton ce l'ho Perfetto Non troppa In effetti Però abbiamo comunque Dei brick Quindi dovremmo riuscire A farcela Noi cosa che ci manca Adesso Sapete qual è E Seed Ce l'abbiamo Si ce ne abbiamo Un casino Soltanto le pozioni Dovrei avere Il brewing stand No Come faccio a fare Le blaze Con la vulcanite Ingot O con il plutonio Che però Si trova solamente Tipo In poca roba Si ciao Plutonio si trova Tanto Tipo In pochissime cose Ragazzi Non 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 penso sia Fantastico E facile da fare Quindi lasciamo stare E Allora A parte questo Vediamo un po' Cosa altro C'è Ferroze Ferroze Or Invar ingot Questa sarà Semplice da craftare Vi spiego anche perché Perché abbiamo già Tutti i materiali A meno comunque La maggior parte Invar possiamo farlo Tranquillamente Abbiamo il nostro Enderio Che fa tutto Però Per adesso Io vi saluterei Noi ci vediamo Nel prossimo video Della materia Sperando che ci sia Xander E che Xander Non ci faccia Buca di nuovo Come si dice Si buca Una cosa del genere E Mi avete anche detto Che qui sotto Doveve c'è qualcosa Mi sa Quindi io vorrei scendere Andare a vedere Ah Forse ci andiamo Sapete Ma si ci andiamo Andiamo un po' Aia Oh Ciao Un trofeo Aspetta c'era un trofeo E se non bella Da questa parte Giusto che c'era Qualcosa di speciale Il nostro secret Vero 30 metri away Da questa parte Vero Ok Questa è la zona Bella sotto Qui dentro Giusto Oddio No Non penso Si è un'ottima idea Qua c'è la bedrock No Non era qui Allora la roba Perfetto Troveremo Sto benedetto Secret Da qualche parte Non so bene dove Ma lo troveremo Per adesso ragazzi Io vi saluto E vi Dico che ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao ciao